Cosa fare se non si trova la parrocchia adatta? Occorre tenere desto il desiderio, investire tempo e spesso macinare parecchi chilometri perché dove fiorisce la Chiesa si incontra Gesù, come ad esempio a Stagia Senese, di Miriaciucci. Ormai da diversi anni ci definiamo cattolici erranti, come pecore senza pastore, in cerca di scampoli di Chiesa viva e vera. E dobbiamo essere grati al Signore che in questa landa spesso desolata non ci ha lasciati mai troppo tempo senza incontrare qualche luce e qualche piccola oasi che rinfranchia il cuore. Occorre tenere desto il desiderio e investire tempo e spesso macinare parecchi chilometri. E così quattro anni fa, si direbbe quasi per caso, ma piuttosto direi per una di quelle che una nostra amica monaca chiama Dio Incidenze, siamo approdati a un corso di esercizi spirituali guidati da un sacerdote mai sentito nominare. Ma il tema degli esercizi, i novissimi, ormai completamente sparito da omelie, catechesi e meditazioni, faceva sperare di poter trovare un pastore ancora degno di tale nome. Nello spazio di condivisione finale, mio marito disse «Faccio volentieri 300 chilometri per incontrare un prete normale». Già, un prete normale. Ed è lui stesso a dire, a chi lo definisce speciale, che non fa altro che proporre quello che la Chiesa ha sempre indicato, ma che purtroppo non propone più, se non in qualche oasi sperduta, come appunto Stagia Senese. Mai sentita nominare, prima di questa circostanza, questa località che non è neanche un comune, ma una frazione di poco più di duemila abitanti. Ma questo è il metodo del Signore, che sceglie sempre ciò che non è degno di nota, anche in luoghi come Betlemme e Nazareth, per manifestare la sua gloria. E cosa è mai accaduto in questo luogo? È arrivato un sacerdote, che iniziando col riunire un gruppo di quattro giovani, si ritrova oggi a guidare una comunità viva, dove sono presenti anche giovani famiglie, che non hanno paura di mettere al mondo dei figli, e, udite, udite, nascono anche vocazioni alla vita consacrata. Il segreto di tutto questo non sembra essere qualche sbalorditiva trovata pastorale, ma sano nutrimento con la parola di Dio ed il catechismo della Chiesa Cattolica, con conferenze per conoscere le nostre radici cristiane e mettere in guardia dalle derive che oggi infestano la nostra realtà, con una scuola parentale per proteggere i più piccoli dall'azione di indottrinamento, che ormai è lo scopo principale della scuola di Stato. Aria da respirare a pieni polmoni, per cui da tutta Italia molti partecipano agli esercizi spirituali proposti e accompagnano i loro figli al campo scuola estivo. Finalmente, quest'anno, siamo riusciti anche noi a far partecipare nostra figlia al campo scuola guidato da Don Stefano, anche forzando un po' la mano, perché a 13 anni ormai le proposte dei genitori si accolgono con reticenza per non parlare della fede che si cerca di trasmettere e che a quell'età viene messa in discussione. Ormai da tempo la nostra piccola che a 5-6 anni con entusiasmo partecipava al rosario in parrocchia guidando anche la recita di una posta andava a messa malvolentieri e rifiutava la proposta di approfondire il catechismo con me per supplire a quello piuttosto banale proposto dalla parrocchia incentrato sui temi più disparati come amicizia, adolescenza, solidarietà e molto poco su Gesù Cristo e la sua chiesa e ci giudicava strani quando non pazzi e comunque sempre esagerati. L'abbiamo accompagnata in questo luogo meraviglioso in mezzo al bosco lasciandola imbronciata e diffidente tra una quarantina di ragazzini e ragazzine che non conosceva con la promessa che se non le fosse piaciuto non ci sarebbe tornata più. in una chiesa di un paesino poco distante ho acceso una candela davanti alla statua della Madonna affidando a lei questa esperienza. Da una parte eravamo certi che il suo cuore potesse essere raggiunto ma dall'altra la sua resistenza sembrava così forte da non lasciare spazio a troppe certezze sull'esito. L'esito devo dire è stato migliore di ogni più rose aspettativa d'altronde come in tutte le cose che fa il Signore se all'andata non vedeva l'ora di venir via quando è arrivato il momento di ripartire non è stato facile convincerla a salutare e andare come non ricordare le parole del Salmo 125 Nell'andare se ne va e piange portando la sementa da gettare ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni Se le opere si giudicano dai frutti come giustamente ci indica Gesù questa è inequivocabilmente opera sua Don Stefano è uno strumento come tutti gli animatori ed aiutanti che mettono a disposizione il loro tempo per supportarlo L'impressione che ho avuto riprendendo mia figlia e sentendola raccontare questa esperienza è quella di uno sconvolgimento un mutamento soprattutto di giudizio dato dall'incontro con qualcosa di nuovo e affascinante che non aveva messo in conto il sentimento più evidente che ha manifestato è la meraviglia mamma tutta un'altra cosa che cosa praticamente tutto Don Stefano è un sacerdote che crede veramente evidentemente quelli incontrati sulla sua strada finora non le avevano trasmesso questa certezza della fede quanto è bello stare tra cristiani evidentemente non aveva fatto mai esperienza di comunità cristiana e a noi genitori prima scartati come pazzi si è aperta la possibilità di una revisione del giudizio perché forse l'esperienza che più l'ha toccata è stata quella di sentirsi a casa di non sentirsi strana la nostra società ormai è talmente scristianizzata che chi prova a proporre davvero la fede si sente in extraterrestre normale visto che Gesù stesso ci ha detto se il mondo vi odia sappiate che prima di voi ha odiato me se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete del mondo ma vi ho scelti io dal mondo per questo il mondo vi odia il problema è che questo accade anche dentro le realtà ecclesiali spesso pervase e corrotte dal pensiero del mondo in nome dell'inclusione della misericordia che si traduce nel non distinguere più il bene dal male per non offendere la sensibilità di qualcuno è la chiesa liquida figlia della società liquida dalla quale non vuole sentirsi odiata questo processo però mi fa ricordare un passo della scrittura come pecore sono avviate agli inferi sarà loro pastore la morte se non si distingue il bene dal male l'uomo naturalmente inclinato al male si farà trascinare inevitabilmente verso il basso il campo scuola una full immersion di soli cinque giorni ma evidentemente intensi ha aiutato nostra figlia a maturare un giudizio sulla sostanza delle cose o meglio a distinguere ciò che ha sostanza da ciò che non ne ha ciò che ha sapore da ciò che non ne ha inaspettatamente al ritorno è stata disponibile a riprendere l'approfondimento del catechismo non come un peso come gli appariva le poche volte che ero riuscito a proporglielo ma con interesse e partecipazione e non è stata l'esperienza giocosa che molti possono immaginare ad entusiasmarla ci ha raccontato la giornata due ore di gruppo studio la mattina e due ore il pomeriggio ragazzini dagli undici ai tredici anni se quanto proposto non fosse stato ricco di sostanza sarebbero fuggiti a gambe levate e poi mi ha colpito un'altra cosa del suo racconto nel tempo libero don Stefano era spesso presente e potevamo fargli delle domande o parlare per cui anche il tempo libero che poteva essere dedicato al gioco veniva magari impiegato ad approfondire qualcosa e meraviglia delle meraviglie il momento più bello quello del silenzio mezz'ora di silenzio per la riflessione personale ogni giorno ce li vedete i ragazzi undici tredici anni no perché nessuno li prende sul serio e nessuno gli propone qualcosa di interessante è il segno della vittoria sul mondo della nostra fede allora io ho un suggerimento per le alte cariche della chiesa smettete di inventare strategie pastorali ho visto addirittura che sono proposti dei master di pastorale e di rincorrere il mondo per allargare le fila dei fedeli che puntualmente invece si riducono dice sempre mio marito che qualunque azienda con un minimo di spirito di sopravvivenza di fronte agli evidenti risultati fallimentari di questo metodo avrebbe cambiato strategia guardate dove crescono i frutti e proponete Gesù la sua parola e la dottrina di sempre della sua chiesa e la vedrete fiorire come astaggia dove non è stato seminato altro che questo e da tutta Italia ce ne andiamo a nutrire e dove fiorisce la chiesa si incontra Gesù e il nostro cuore è quello di ogni uomo della terra che ricerca lui in lui trova la pace grazie grazie grazie